Allora, Parenza, dove siamo? Quasi sul Montforten. Vediamo delle montagne che non sappiamo e quella in fondo bianchissimo è la testata del Routor. Montagne, montagne. Là c'è un laghetto in disgelo. Montagne, mica. Bah! Le petit Mont Blanc. Adesivizzano. Il giroletto è adesivizzato. E noi oggi andiamo sopra lì. E poi andiamo giù là che c'è un rifugio. Non si vede bene. È sotto le pareti di roccia che si chiamano i piramidi calcare sulla destra. Ragazzi, ma che bello è. Mamma mia.